Oggi ricoloro delle vecchie porte. Prima di tutto tolgo il vetro, non sta molto bene il colore fiume, e lavo bene tutta la superficie con aba, acqua calda, bicarbonato, ammoniaca. Una prima mano di clear sand la stendo con il pennello Elisabeth, perché è molto morbido, non lascia segni. Una seconda mano e il gioco è fatto. Una prima mano di qui, sull'altro lato, e rifinisco col rullo. È un ottimo metodo per non avere segni. Il rullo sulle parti più ampie e il pennello sui bordi. Dopo aver dato la seconda mano, liscio la superficie con la spugnettina liscia superficie. Tolgo i difetti e poi una bella prima mano di protettivo diluito con acqua. La passo con la spugna bianca, perché non lascia nessun tipo di segno. Voilà! Le porte sono finite. Questa è una casa tutta Magic Paint. Pareti, porte, mobili. Guardate che bello il mio pomello. I nuovi vetri stanno benissimo. E la carta da parati, la ciliegina sulla torta.